Ha lasciato una brillante carriera universitaria per inseguire il suo sogno. Una stella Michelin, quattro cappelli per la guida dell'Espresso, chef pluripremiata nonché giudice a Masterchef. Oggi sono insieme ad Antonia Klugman. Antonia, raccontati in pochi secondi. Io sono una cuoca, sono felice di esserlo, sono molto fortunata, faccio esattamente quello che vorrei e il mio lavoro mi definisce. Per quale motivo ci hai portati qui? Perché questo è il tuo luogo del cuore? Appunto, vi ho portato nel mio ristorante, che è l'espressione più sincera che ho di me stessa. Ci sono delle similitudini tra Trieste, la tua città natale e il Coglio dove hai deciso di aprire il tuo locale? È una, dal mio punto di vista, la campagna che parte da Trieste e arriva nel Carso e poi si snoda. In questa parte del Coglio mi ricorda, io credo, mi ricorda il confine e quindi mi ricorda casa. Il confine è lì, a pochissime centinaia di metri dal ristorante, neanche un chilometro. Qui si è combattuta la prima guerra mondiale, poi si è combattuta la seconda. Il fiume era il confine tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, proprio lì. Questo confine adesso è il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine. Coglio orientali e Coglio. Da Triestino posso dire che mi sento in un luogo aperto. Il confine per me è apertura, non è chiusura. Il tuo locale aderisce alla strada del vino e dei sapori del fluo di Venezia Giulia. Qual è il sapore che ti piace di più e ovviamente anche il tuo vino preferito? Penso sinceramente che questo abbinamento che esiste nel salato con la frutta sia una caratteristica che ci contraddistingue rispetto al resto dell'Italia. Abbiamo queste influenze austro-ungariche e come triestine siamo abituate all'abbinamento carne e frutta che non è così usuale e qui in questa lingua di territorio del Goriziano da sempre ci sono gli gnocchi con le susine, gli gnocchi con le ciliegie in abbinamento sia al dolce che al salato ed è una cosa che proprio è dentro di noi secondo me. E poi un'altra cosa incredibile della frutta è la fermentazione. La fermentazione che porta da un lato all'aceto ma dall'altro al vino. E devo dire che la nostra regione ha un'altra caratteristica che tutti ci invidiano e vengono da tutto il mondo per assaggiare i nostri piccoli produttori e credo che la cosa che li contraddistingue sia l'unicità. Cioè ogni produttore lavora secondo il proprio gusto, secondo la propria campagna, secondo il suo punto di vista in campagna e questo fa sì che noi alla fine abbiamo una campagna non industrializzata, una campagna che ci rappresenta e che ci permette di avere dei prodotti diversissimi l'uno dall'altro. Io sono una appassionata di ribolla gialla. Quante diverse ribolle gialla esistono nella nostra regione? Tantissime, tante quante sono le teste dei nostri produttori. E questo invece di essere un limite lo dobbiamo far diventare una ricchezza nella comunicazione. Tu non lo sai ma durante il liceo mia madre lavorava ovviamente e quindi dopo l'elementare e le medie io e mia sorella ci trovavamo a casa da sole e quindi ho iniziato a cucinare per lei. Diciamo lei si accontentava il capito di riso in bianco invece io per me stessa cucinavo seguendo i libri di cucina perché proprio mi piaceva il gesto, mi piaceva il gusto e poi la costringevo a riprendermi con le telecamere mentre cucinavo. Per cui in realtà sì, mi sono appassionata prima la cucina, credo grazie ai miei nonni in realtà e poi pian pianino poi all'università a Milano mi sono trovata a cucinare per tutti i ragazzi e alla fine, sì, come sai ho lasciato l'università per fare la cuoca. Il tuo lavoro ti porta anche a viaggiare tantissimo, ma che cos'è che ti porti del friulio Venezia Giulia quando ti allontani da qui? Il viaggio, devo dire, è parte dell'esercizio che faccio quotidianamente per connettermi con il resto dell'universo, no? Perché noi comunque abitiamo veramente un periodo, un'epoca straordinaria in cui nel giro di pochissimo, no? Con qualunque mezzo noi possiamo sapere che cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo. E noi abbiamo questo aeroporto, no? Così vicino che ci consente nel giro di... Quanto? Due ore? Di essere a Parigi, di essere a Londra, di essere dovunque noi vogliamo e di connetterci con i migliori chef del mondo. Però poi quando torno a casa, il respiro, no? L'aria che si sente qui in campagna mi fa sentire effettivamente diversa. Quando torno a Trieste è quella curva in costiera che ti fa vedere il mare, no? Che è incredibile, magica. E qui in campagna è la curva di Vencò. È la curva di Vencò, sotto Routars, di solito i colori cambiano e c'è questo panorama che ti fa sentire, non so, nei luoghi più belli della Provenza, nei luoghi più belli della Francia. Cioè, noi dobbiamo raccontare questo territorio perché è veramente un territorio straordinario. Grazie Antonia per essere stati con noi. Ti lasciamo tornare in cucina e spero di vederti presto.